Domenica sera è scaduto il bando per l'accoglienza ai profughi ucraini e in Abruzzo sono 200 gli alberghi che hanno risposto al bando. La maggiore concentrazione a Teramo e la lista completa in mano alla protezione civile regionale che con la regione Abruzzo ha fatto un grande lavoro organizzativo per gestire l'arrivo e la conseguente accoglienza. In Abruzzo sono attesi circa 10.000 ucraini in fuga dalla guerra. Per ora ne sono arrivati 2.463 distribuiti tra l'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Molti bambini già sono stati accolti nelle scuole delle città di riferimento. I posti letto complessivi negli alberghi sono 13.000. Già una decina di alberghi hanno cominciato ad ospitare i primi ucraini arrivati. Una risposta veramente molto importante, numeri che dicono che la regione è pronta per questa grande operazione di solidarietà. Anche da parte degli alberghi la risposta, come si diceva, è stata importante. Del resto già avevano dato dimostrazione di questo con l'accoglienza agli sfollati aquilani nel 2009. La convenzione in atto con la protezione civile regionale stabilisce che agli ospiti deve essere fornita una pensione completa e tutti i servizi essenziali, anche legati all'igiene e al decoro. Per quanto riguarda la distribuzione nelle province, all'Aquila sono arrivati 681 profughi per ora, a Chieti 393, a Pescara 1178 e a Teramo 211. Abbiamo oltre circa 250 strutture ricettive e di questo ringrazio le associazioni di categoria che hanno risposto. Abbiamo a disposizione circa 13.000 posti per gli ucraini, quindi un'assistenza molto elevata. Naturalmente noi ribadiamo, come è venuto fuori nelle riunioni che facciamo con il Dipartimento Nazionale, che questi sono degli alloggi temporanei perché poi uscirà a breve, forse anche oggi, un'ordinanza in cui stabilirà bene poi le procedure definitive che saranno delle autonome sistemazioni molto simili a quelle che abbiamo avuto nell'ambito degli ultimi eventi sismici e anche un'assistenza diffusa che si sta sviluppando in maniera molto violenta come un supporto tra Comuni e Terzo Settore per dare vita a una struttura ricettiva abbastanza stabile per il futuro.